Allora, Vitano, il prim'è, bravissimo Italia Campionale, che ci viene in Italia. Allora, chi è il primo? Eccoci, passo il mio riguardo, primo classificato, campione provinciale. Allora, la finale è il 5 aprile, a Soloméone. Bravissimi ragazzi, piano piano che sempre in cellulinaio. Bravi, bravi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.